È una realtà politica perché Meloni ha troppo desiderio di governare ed è assolutamente in linea con tutte le istanze esterne senza le quali non si governa. Per cui è in linea con la politica est statunitense, è in linea con l'Europa di Bruxelles, è in linea con Confindustria, è coperta da Draghi, è coperta da Mattarella, vuole governare. Gli altri suoi soci vogliono darle fastidio e dunque vogliono conquistare spazi di potere all'interno del governo, della coalizione, naturalmente, ma in realtà non hanno alternative. Dove va Salvini senza il centrodestra o il destracentro? Che prospettive ha un partito che adesso è all'8% e che sta tornando a essere un partito del nord, fortemente contrastato al nord alla stessa Meloni? E che prospettive ha Berlusconi? Se non quelle di sparare battutacce facendo vedere così che lui è superiore a ogni politicamente corretto e che farà il monello finché non avrà le assicurazioni che davvero gli interessano e che ha avuto da Nordio un paio di giorni fa, quando Nordio si è recato in visita privata a casa di Berlusconi. Dove vanno senza Meloni questi? Non hanno alcun potere di coalizione con alcuna altra forza politica? Si mettono insieme al PD? Si mettono insieme ai Cinque Stelle? Possono avere come prospettiva calenda? Sono costretti a stare insieme a Meloni, naturalmente, lo sanno, gli dispiace moltissimo, cercano di conquistarsi tutto lo spazio politico che possono, ma suppongo che Meloni abbia abbastanza lucidità e determinazione per gestire queste tensioni interne che non sono superiori a quelle che attraversavano i governi di coalizione della Prima Repubblica soprattutto nella sua fase finale. Per cui chi ha qualche anno non si spaventa di queste cose, ci sono ben altre questioni esterne al nostro paese che generano problemi veramente importanti, veramente gravi. Ecco, in questo momento non so qualcuno di voi, ma io non vorrei essere al posto della Meloni per niente al mondo. Cioè abbiamo sei settimane di tempo di vita? No, faccio provocatore, quindi mi domando se c'è una correlazione tra le due cose. No, non c'è, sono situazioni lontane, diverse per struttura economica, per struttura istituzionale, per modalità di svolgimento del processo politico. Siamo molto diversi dagli inglesi. No, il punto vero... Le ricordo che Ignazio Visco proprio nei giorni scorsi al Fondo Monetario a Washington aveva detto che quanto è accaduto a Londra è una lezione per tutti, quindi insomma in qualche modo qualcuno l'ha evocata la cosa. Sì, ma Ignazio Visco diceva, parlava del, come dire, riflessi economici del progetto di riforma fiscale del premier inglese, diceva, attenzione, se fate delle cose così i mercati non vi seguono, che poi lì ci sia un premier talmente debole che non regge le conseguenze ovvie delle sue stesse indicazioni economiche, questo è un problema tutto loro, della crisi del partito Tori, e lì è tutto da decifrare, ma insomma le strutture liberal-democratiche dell'Inghilterra sono talmente solide che nessuno ha difficoltà a stare a guardare, a osservare come stanno sprofondando e come ne verranno fuori sicuramente. Da noi la situazione è diversa, noi siamo ingessati. Meloni è costretta a governare, i suoi alleati sono costretti a obbedire perché la signora è particolarmente, come dire, autoritaria. Insomma, diciamo che è la prima volta che Berlusconi viene sconfitto in campo aperto in questo modo, è qualcosa di abbastanza impressionante. Bastava vedere la mimica di ieri, molto diversa da quella dell'altra volta, ma comunque rivelatrice ugualmente. Eh sì, questa volta hanno un Presidente del Consiglio dei Ministri che comanda, del resto la situazione è questa, al di là del fatto che sviluppi storici portano ad una concentrazione, una necessaria concentrazione di potere e di autorità nei vertici della politica. In questo caso c'è anche un dato proprio personale che non è carismatico, ma è di grande determinazione proprio caratteriale, anche tenuto conto del significato che ha per una certa parte politica questo ingresso a Palazzo Chigi. Per una certa parte politica questo è la fine dell'Italia antifascista e la fine della legittimazione antifascista della democrazia italiana. Ora, voglio essere molto chiaro, questo non può essere detto per quel 26% di italiani che ha votato Meloni, che non avevano per nulla in mente questa intenzione politica strategica, ma per il nucleo storico di quel partito il significato è questo. Non a caso Meloni ha detto che appena ha avuto la notizia della vittoria ha parlato di un grande riscatto e ha dedicato questa vittoria a coloro che non ci sono più. Ripeto, sia chiaro, non stiamo dicendo che il 26% degli italiani è neofisistico. Peraltro il 26% dei votanti, non il 26% dei votanti. Appunto, non è così, ma nella percezione del nucleo di alcuni dirigenti, forse di molti dirigenti, di quel nucleo ridottissimo da cui è nato questo partito, che era un partito iperminoritario, nato dal disastro di alleanza nazionale, nella loro testa c'è anche questo, per cui è un'occasione che non sprecano. Stiamo pur tranquilli, sorretti come sono da un consenso popolare, non su questo punto ideologico, ma un consenso popolare che nasce da un disagio ormai strutturale del nostro paese. Non sottovalutiamo il significato simbolico che, almeno agli occhi del ceto politico di Fratelli d'Italia, ha il fatto che adesso sono entrati a Palazzo Chigi senza marce su Roma. Al loro punto di vista è la fine di un apartheid, diciamo così. Eh sì, è proprio sì. Sorsina, nella valutazione degli altri stati europei sulla nostra politica interna, è un argomento che può essere sempre adoperato, poi bisogna vedere con quanta proprietà, perché uno scenario ungherese, uno sviluppo della politica e dei rapporti politici interni del nostro paese verso uno scenario ungherese è praticamente impossibile. Noi abbiamo una corte costituzionale, insomma non sono questi i pericoli, io credo. Certamente Meloni non si lascia insegnare da nessuno quel che deve dire, però se lo dice da sola. Ecco, per cui se ne dicono rompi con Orban, lei non lo fa, però capisce da sola che semplicemente non le conviene. Non le conviene. Prima di capeggiare una fronda europea anti Francia e Germania, cioè prima di mettersi a capo, se ci riesce, di un'alleanza a Ungheria, Polonia, Italia, cercherà, se ha un minimo di buonsenso, e ce l'ha, di entrare dentro il duopolio e trasformarlo in un triangolo, no? Di fare dell'Italia un interlocutore di pari peso rispetto a Francia e Germania, cosa che in linea teorica è possibile, in linea pratica vuol dire che ci dobbiamo mettere a lavorare per rimettere in piedi la baracca, perché poi nella politica internazionale si pesa per quello che si è, non per quello che si dice. E l'Italia è in questo momento un po' fragile, diciamo così. E se Meloni e il suo governo riescono a fare sì che l'Italia pesi di più dentro l'Europa, vuol dire che o sono abili venditori di fumo, o forse meglio, sono riusciti a trasformare l'Italia in qualche cosa di un po' meno fragile. Io, sicuramente lontano come sono sotto il profilo intellettuale ideologico da questo governo, tuttavia, cosa volete? Chi è che può essere contento di un passo avanti dell'Italia verso lo sfascio? No. Ci sono delle cose che vanno poi anche dette su questo governo, perché tutti abbiamo parlato dei ministeri chiave. Ci sono dei ministeri che per i politici non sono chiave e per quelli che fanno il nostro mestiere, invece lo sono, che, diciamo così, non sono stati trattati molto bene. Si riferisce alla cultura? E all'università.